13 41 22 febbraio 2024 beh andare per castagne bisogna conoscere gli alberi gli alberi perché non tutti gli alberi producono io conosco che sono decine di alberi hanno fatto sempre molte castagne guardate qui quanti ci sono guardate questi due quattro alberi molte castagne producono ogni anno anche se quest'anno ce ne sono state poche